Reintroduzione delle province in Sicilia e il DDL Schifani seppellito dalla maggioranza che a questo punto non può che definirsi ex maggioranza. Il voto segreto mette a nudo la crisi nel centrodestra siciliano. Su 65 presenti, ben 40, almeno 11, forse 13 della coalizione Schifani votano la bocciatura dell'articolo 1 del DDL sull'elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali. Schifani, stizzito, ha subito abbandonato l'aula. La riforma che era nel programma del presidente eletto nel 2022 dunque salta. Il centrodestra si è subito riunito nel tentativo di dare una svolta alla crisi già annunciata la settimana scorsa dalla bocciatura della norma salve ineleggibili cara fratelli d'Italia che seguive malumori sulle nomine dei manager della sanità. Ma adesso su una pietra angolare del programma governativo complice il voto segreto il centrodestra va in pezzi. Voci di corridoio parlano addirittura di dimissioni di Renato Schifani anche se al momento sembra solo uno spauracchio da agitare in faccia ai ribelli. Nelle contraddizioni del centrodestra va a nozze l'opposizione schiaffone sulle province e governo deve andare a casa. Così il pentastellato Antonio De Luca a cui fa eco l'omonimo cateno De Luca. Al governo mancano i numeri Schifani si dimetta e il PD prendere atto che questo Parlamento ha un'altra maggioranza che sicuramente non è a sostegno del governatore siciliano. Con l'affossamento del disegno di legge salta il voto diretto per le province che avrebbe dovuto svolgersi a giugno. Adesso bisogna mettere subito mano all'elezione di secondo livello.